Oh, grazie a Dio, ebrei e arabi hanno trovato un buon modo di convivere finalmente. L'associazione ha delinquere. Noi non siamo ladri. Io sono un amico di suo nipote, Gabriel. Credevo che lei fosse in coma. Lo ero, ma ne sono uscita e così mi hanno dimessa. Lei poi mi dovrà spiegare questo strano modo di entrare in casa della gente. Ma prima vorrei sapere dov'è Gabriel.